La siccità fa paura in Maremma. I dati pluviometrici evidenziano un afflusso meteorico sull'intero territorio inferiore del 35% rispetto agli anni precedenti. Acquedotto del Fiora tiene costantemente sotto controllo tutte le proprie infrastrutture, in particolare i pozzi e le sorgenti dei comuni delle colline metallifere. La situazione peggiore è a massa marittima dove nella sorgente di Monte Bamboli sono presenti criticità di captazione dell'acqua. Nella frazione intervengono giornalmente le autobotti dell'acquedotto Maremmano con il rifornimento dei giacimenti territoriali. Sono anni che viene rifornito d'estate specialmente l'acquedotto con le botti. Sicuramente più là che va, la siccità che c'è, le piscine che ci sono, un problema lo danno. Una situazione grave, peraltro solo iniziale. Se consideriamo l'abbassamento delle sorgenti e delle conseguenti portate disponibili nei comuni di Semproniano, Rocca Albigna e Civitella Paganico. Un quadro preoccupante che acquedotto del fiore cerca di mitigare tamponando le perdite d'acqua nelle campagne e nelle zone rurali. Operazione capillare che al momento ha ridotto la dispersione del 39%, percentuale di risparmio mai così alta nella storia di tutti i tempi.